La Lazio sbarca su TikTok, ecco primo video per i tifosi. Roma la Lazio, negli ultimi mesi, ha dato una forte sterzata nell'ambito della comunicazione. I social sono sempre più al centro del club bianco celeste. Una notevole spinta fatta di immagini e video ha permesso al canale ufficiale Instagram della società di arrivare e superare il milione di fan. E da oggi ecco l'apertura di TikTok, social rivolto più ad un pubblico giovane e adolescenziale. Nel primo video si vedono una serie di aperture, dall'armadio al mattino, alla portiera della macchina prima di uscire, sino all'apertura del grande cancello del centro sportivo di Formello. I tifosi intanto hanno risposto subito presenti, in tantissimi, in poche ore, si sono iscritti al nuovo canale della Lazio per vedere sempre più da vicino, le avventure dei giocatori e tanto altro, virgola.